Modica, la polizia, arresta uno stalker, l'uomo accusato di violenze e maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. Comiso Chiaramonte, incidente mortale ieri mattina, perdere la vita, Salvatore Pastorello, 62enne di Chiaramonte. Vittoria, una mamma chiede più ore di assistenza sociosanitaria a scuola per il figlio 12enne affetto da autismo. Comiso, strisce blu a pagamento in via Papa Giovanni XXIII, il PD donne critica la scelta operata dall'amministrazione. Un cordiale benvenuto ai nostri telespettatori, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura ci occupiamo di cronaca. A Modica, un uomo di 39 anni è stato tratto in arresto con l'accusa di violenze ai danni dell'ex moglie. L'arrestato era andato prima a prendere i figli piccoli a scuola e poi aveva chiesto alla donna un incontro di chiarimento. Le violenze andavano avanti da circa 10 anni e grazie alla denuncia della donna è stato possibile trarre in arresto l'uomo che adesso si trova ai domiciliari. Ma vediamo il servizio. Tratto in arresto uno stalker a Modica. La polizia ha fermato un 39enne modicano SF accusato di continue violenze nei confronti dell'ex moglie di due dei quattro figli della coppia di 13 e 14 anni. La vicenda è alquanto complicata. Qualche giorno fa l'uomo era andato a prendere a scuola i due figli più piccoli di appena 4 e 5 anni. Successivamente aveva contattato telefonicamente la moglie comunicandole che aveva i figli e di volerle incontrare per un chiarimento dopo che la donna da circa un mese e mezzo si era allontanata da casa per fuggire dalle violenze del marito. La donna a questo punto si è rivolta alla polizia che le ha consigliato di fissare un appuntamento con l'uomo. Ma durante l'incontro il marito ha rubato il cellulare all'ex moglie che a questo punto è rimasta isolata non potendo restare in contatto con gli agenti. La donna è riuscita a contattare da un bar la madre che a sua volta ha avvisato la polizia. L'uomo è stato così rintracciato nella zona commerciale di Modica e tratto in arresto. Su di lui pendono le accuse di rapina, lesioni, maltrattamenti, minacce e detenzione di un'arma da fuoco perché sorpreso con una pistola a gas che era stata acquistata regolarmente ma da un'altra persona. Adesso l'uomo si trova agli arresti domiciliari. In conferenza stampa il commissario della polizia di Modica Antonio Giavola ha sottolineato il lavoro sinergico tra i reparti di polizia, giudiziaria e sezione volanti e l'importanza della denuncia da parte della donna che si è dimostrata molto coraggiosa. Sì, le liti in famiglia più che in crescita io con presunzione vi posso dire che ci sono sempre stati. Finalmente però le donne in generale che sono purtroppo per la maggior parte dei casi e i figli, i minori, comunque vittima di questo tipo di reati finalmente riescono a denunciare. Questo è il passaggio più importante. Cioè che la polizia ha dato sicuramente aiuto a questa donna e in generale lo può dare agli altri e il reato di stalking, ovvero degli atti persecutori di recente introdotto, ha permesso comunque, grazie al legislatore, di fornire uno strumento in primis alle vittime e in secondi ovviamente alla polizia giudiziaria per poter appunto perseguire questi soggetti. Un vittoriese è stato denunciato alla procura della Repubblica di Ragusa per possesso di armi e munizioni sottoposte a sequestro. L'uomo è stato bloccato dalla polizia locale mentre entrava al mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello con una pistola alla cintura. Il vittoriese è stato accompagnato al comando dove gli agenti hanno appurato che si trattava di una pistola ad aria compressa semi-automatica con otto colpi a piombini. Gli agenti hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti una carabina ad aria compressa calibro 4.5 di libera vendita e 24 proiettili. E ci spostiamo a Comiso. Un incidente mortale ieri mattina sulla SP7 Comiso Chiaramonte a perdere la vita Salvatore Pastorello, 62enne di Chiaramonte. A causare il sinistro fatale pare sia stato un malore accusato dall'uomo. Sentiamo. Incidente mortale domenica mattina sulla Comiso Chiaramonte a perdere la vita Salvatore Pastorello, pensionato di 62 anni di Chiaramonte-Gulfi. L'incidente è avvenuto al chilometro 12 all'altezza della curva denominata 4 cappelle intorno alle 11. Da una prima ricostruzione dell'evento pare che la Fiat Panda sulla quale viaggiava Pastorello abbia avuto un impatto contro il guarderai, la protezione della sede stradale, con il conducente che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. La Panda, priva di controllo, ha tamponato poi una Fiat 1 condotta da un 46enne di Comiso che proveniva in direzione opposta. Su disposizione del pubblico ministero di turno i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati. L'arteria è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario per consentire le attività di soccorso e rilievi di competenza. Sul posto sono intervenuti la Polizia Provinciale, il 118. La Salma di Pastorello, dopo l'ispezione cadaverica e le formalità di rito, è stata riconsegnata ai familiari. Pare che a causare l'incidente sia stato un malore. Incidente stradale sabato pomeriggio in via Modica-Giorratana a Modica. Ad essere coinvolti sono stati tre mezzi. Una Mercedes C200 condotta da un 38enne che viaggiava in direzione Modica. Una Mercedes classe A condotta da una 22enne in stato di gravidanza. E una minicar alla cui guida vi era un 16enne. Sul posto è intervenuto il nucleo di pronto intervento della Polizia Locale che ha eseguito i rilievi per stabilire l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità. notevoli i danni ai tre mezzi. Necessario anche l'intervento di tre ambulanze del 118 che hanno portato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale maggiore dove i sanitari hanno diagnosticato ai tre prognosi che variano dai 7 ai 15 giorni. Uno dei tre conducenti, il 38enne, è stato sottoposto ai controlli clinici ed è risultato positivo agli effetti degli stupefacenti. Per questo motivo è stato deferito alla Procura della Repubblica. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida e sequestrata l'auto. Ed ancora un'altra notizia di cronaca. Arrestato nella serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Vittoria Gaetano Romano, 27enne vittorieso, operaio pregiudicato, sorpreso dai militari in via Colledoro mentre cedeva una stecchetta di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di un grammo ad uno studente 25enne straniero di Vittoria il quale è stato segnalato all'ufficio territoriale del governo di Ragusa quale assuntore. Inoltre a seguito di perquisizione personale Romano è stato trovato in possesso di circa 25 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito Romano è stato condotto al carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea di fronte alla quale dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. E cambiamo argomento, niente da fare per la finanziaria regionale, la legge e il bilancio infatti alla regione hanno avuto uno stop, una situazione che porta il PDL a chiedere le dimissioni dell'assessore Gaetano Armao. Ma sentiamo il servizio. Settimana difficile a Palermo. La legge finanziaria e il bilancio preventivo 2012 che dovevano essere approvati nei giorni scorsi infatti si sono arenati all'Arse. Una situazione che ha portato il PDL a chiedere le dimissioni dell'assessore all'economia Gaetano Armao. La condotta del governo regionale e la non individuabile fisionomia tecnica dell'assessore Armao si legge in un comunicato stampa immiato dall'onorevole Innocenzo Leontini e da tutto il PDL alla regione hanno collezionato in una settimana diverse nefaste conseguenze. Il Popolo delle Libertà si riferisce in particolare alla presentazione di un bilancio che fatto votare articolo per articolo è rimasto sospeso e non portato al voto finale per la manifesta infondatezza, dicono dal partito, delle sue previsioni e alla predisposizione di una finanziaria che ridotta a 4 dai 90 articoli all'origine è stata sospesa in aula e non più riproposta né integrata e infine sottratta al voto finale. Ma il PDL fa riferimento anche alla presentazione di un esercizio provvisorio che secondo il partito è la prova finale di un colossale disastro da parte di un assessore tecnico che ha fallito proprio nell'unico obiettivo tecnico che avrebbe dovuto assicurare quello di evitare l'esercizio provvisorio. Alla inadempienza verso gli enti locali, le categorie produttive, i forconi, l'agricoltura, le piccole e medie imprese e gli investimenti produttivi, materie di cui non si facce, non è la finanziaria. Tra malcostume, incapacità e malafede nella gestione dei ruoli, commenta Leontini, si aggravano i mali di un'isola in cui il governo dei cosiddetti tecnici è servito soltanto a rendere irreversibili i danni e inesistenti margini appunto tecnici ma anche politici di recupero. La richiesta di dimissione conclude e fondata su queste accuse. E si chiude qui la prima parte del nostro Tg. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria. A tra poco.